Sono tornato nuovamente ad effettuare una visita ispettiva nel reparto dialisi 2 dell'ospedale di Pescara, dove ho trovato una situazione simile a quella di un anno fa. Io interveni già un anno fa, chiesi l'intervento dei NAS, e lì ci sono dializzati, ci sono malati nefropatici che devono effettuare la dialisi, a temperature altissime. Il sole batte sulle finestre, va anche a penetrare le finestre e disturba anche queste persone perché sono raggi di sole che li vanno direttamente addosso. Ma le temperature da mezzogiorno in poi si alzano notevolmente. Loro per sottoporsi a questa prestazione devono stare 4 ore ferme sul letto, hanno questa depurazione del sangue, già sono fortemente debilitati, con questo caldo potete immaginare voi. Mi hanno contattato, hanno chiesto nuovamente il mio aiuto, io sono andato di corsa dicendo aiutaci perché non ce la facciamo più. Tanti, tanti utenti, sono circa più di 100 utenze che si alternano all'interno del reparto. Io ho parlato con i vertici del reparto, ho sottoposto il problema, ho chiesto pubblicamente anche nuovamente l'intervento dei NAS. Mi auguro che intervengano, il problema è un problema serio. Io continuerò a fare queste ispezioni, continuerò a denunciare queste cose, più di questo non riesco a fare. Ho chiesto anche l'intervento del pubblico, del presidente, dell'assessore regionale della sanità perché se non interviene il direttore generale, l'organo politico che deve esercitare le funzioni condone deve intervenire. In alcune stanze lì è presente l'aria condizionata, non in tutte, basterebbe una spesa modica per cercare di alleviare le sofferenze di questi pazienti? Sì, sono 3-4 stanze, quindi uno splitterino per ogni stanza, 3-4 mila euro si fa il lavoro, quindi è assurdo che un NAS che vive di 600 milioni di euro l'anno, un bilancio di 600 milioni, non trovi 3-4 mila euro per dei condizionatori. Ci sono stanze tipo la stanza con tumaciario, la stanza dove c'è il responsabile del reparto, il primario che ha lo splitter e c'è una temperatura gradevole, molto fresca, quindi si può fare.